Oggi, viaggiare con Trenitalia è ancora più comodo. Sul Frecciarossa puoi rimanere connesso al tuo mondo grazie alle tecnologie di Telecom Italia. Tramite il Wi-Fi, la connessione internet diventa più accessibile e ti consente di navigare comodamente dal tuo PC. Potrai telefonare anche in galleria, rispettando gli altri. E non solo, i tuoi viaggi saranno sempre più divertenti grazie alla scelta di film e tanti altri contenuti di intrattenimento. Per te, presto disponibili sul portale di volo. Frecciarossa, la linea che connette il paese. Grazie a tutti.